Stato di agitazione dei lavoratori dell'azienda Mignini e Petrini. Si sono svolte nei giorni scorsi le assemblee dei lavoratori dell'azienda di produzione e commercializzazione di mangimi zootecnici insieme alle rappresentanze sindacali di Fly CGL Umbria e Willa Willa dell'Umbria, in cui è emersa ancora preoccupazione e insoddisfazione in merito all'incontro avvenuto nei giorni scorsi con il titolare dell'azienda, il gruppo dirigente e i rappresentanti di Confindustria. Nonostante le continue sollecitazioni di questi mesi per avere risposte più concrete e propositive di strategia aziendale dopo i continui cali dei volumi produttivi, si è registrata la mancata presentazione di un piano industriale ritenuto dai sindacati lo strumento essenziale per l'individuazione di soluzioni per il benessere aziendale e dei lavoratori. I sindacati definiscono inaccettabile poi il mancato riconoscimento dell'aumento di retribuzione contrattuale che molte aziende, pur non essendo firmatari del contratto nazionale, hanno comunque erogato già dal mese di aprile. I lavoratori, pertanto, hanno dato mandato alle loro rappresentanze sindacali di portare avanti lo stato di agitazione, partendo da un presidio che si terrà il giorno 6 luglio davanti ai cancelli dell'azienda Mignini e Petrini. Le sigle sindacali e le maestranze annunciano che continueranno con ulteriori azioni di protesta in caso di mancate risposte aziendali che i sindacati programmeranno poi nei prossimi giorni.